telecronaca poi voglio aprire un bel tema perché Vitale ha scritto un post molto interessante però interessante non lo so io ho espresso semplicemente il mio pensiero ma ti faccio una premessa Fabio io per quanto riguarda la competenza calcistica io a Dani lo stimo anche però credo che sia diventato in certe circostanze vittima del suo personaggio e questa sera ne è stata una prova sì madonna cioè commentavo anche io prima sul divano con la mia famiglia la sua competenza la sua conoscenza del calcio non è in discussione a Dani quando parla è un piacere ma il troppo stroppia in certe circostanze e abbiamo capito che lui ama l'argentina e le sudamericane come è anche più di noi ma sì non c'è però intrattiene cioè sì però allora c'è una linea di confine tra l'intrattenere e il dire scemenze perché allo stato attuale io non stai rappresentando la tv di stato e adesso non voglio fare quella retorica insopportabile il canone che lo pago non me ne frega nemmeno niente perché tanto è così quello che voglio dire però è che non visto che stai offrendo comunque un servizio che devi fare cronaca in base a cosa tu dici messi è il miglior giocatore del mondo probabilmente lo è stato in passato perché lo dice la sua tecnica lo dice la sua storia lo dicono i trofei che ha vinto però allo stato attuale delle cose messi non è il migliore del mondo perché se io ti permette di controbattere io sono d'accordissimo con Dani e allora qual è la la controversia e io non contesto da Dani il cosa io gli contesto il come perché è il suo modo di esagerare nelle urla nel nel forzare questo entusiasmo che si vede che lui ha non nego che non ce l'abbia ma è l'ostentare questo sentimento questa questo questo suo essere travolto dall'emozione quello no ma io credo io credo che quello sia una cosa stupenda perché l'essere travolti e travolgere gli altri di emozione è bello io sono uno di quelli che vede il calcio in questa maniera qua perché io anche se non ho vissuto Maradona mi emoziono ho le lacrime quando ogni volta che risento la la telecronaca di Vito Rugo Morales durante la partita dei quarti con l'Inghilterra Messico 86 però però stiamo parlando in argentino che commentava Maradona no era un guagliano però 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 secondo me Lele che stimo stasera ha esagerato perché tu con quale parametro stabilisci stabilisci che Messi allo stato attuale delle cose è il migliore al mondo perché escludi Mbappé che che comunque sta dimostrando di essere il migliore in questo mondiale stai escludendo Alland che non c'è io parlo di presente non parlo di quello che è stato in passato ci tolgo anche Cristiano Ronaldo perché ormai non è neanche lui il migliore al mondo e quindi se se parliamo di rendimento a livello di club Benzema nell'ultimo anno solare poi ce l'ha dimostrato anche il pallone d'oro se c'è un migliore al mondo è lui peccato non averlo visto al mondiale però e non io credo che poi ci debba essere anche un senso della misura quando si racconta calcio tutto bello ma bisogna essere veritieri grazie a tutti